ciao diretta 17 qualche minuto oggi oggi come promesso vediamo una tecnica e che è venuta fuori da un sempre come sempre dagli errori e si spa e allora quando il detto dice si impara sbagliando quando il detto dice si impara sbagliando si impara ecco non si parla sbagliato sbagliando si impara oggi vedremo come mai accade questo ok allora ho cercato una ho pensato una tecnica per poter riprodurre questa ciao elisabetta raviolo ho pensato quale potesse essere una tecnica per riprodurre le stesse condizioni che si sono verificate ciao adele ciao riana che sta guardando fabrizio muscas che il cognome tutto sardo come dicevo un tempo fa mi sono arrivate delle piante tra cui degli toygawa ciao domenico la un ramo si è spezzato in deposito ho preso pari le buste che uso per spedire lo sfagno queste qua ho messo un po di acqua dentro per avere un ambiente più umido possibile e ho messo un ho messo un ramo così si vede ho messo questo grosso ramo di toygawa dentro qualche giorno fa l'avete visto ho detto chissà quel ramo mi sono anche dimenticato di averlo io faccio così prendo e prendo dei rami delle cose li tengo ad una umidità elevatissima e poi mi dimentico di di metterli in vaso poi ecco abbiamo in testa questa cosa che per forza una pianta deve essere messa in vaso per farla radicare invece abbiamo visto come tempo fa avevamo visto anche ad esempio godzilla l'olivastro che radicò senza essere in vaso poi l'abbiamo messo in vaso perché ovviamente dopo bisogno di un supporto a livello radicale sia per quanto riguarda le sostanze nutritive ma anche per quanto riguarda insomma la sua erradicazione un substrato che lo sostenga sostenga la pianta in sé quindi poi mi sono ricordato di avere toccavolo quel ramo la sarà marcito no qui non per il momento non è marcito nulla e c'è il motivo c'è il motivo che guarda guarda le radici sono aumentate dall'altra volta sono aumentate le radici allora è vero i qui rami toccano la busta però non ho aperto adesso è la prima volta che l'apro ma secondo me la muffa dipende dalla quantità di ossigeno in rapporto con l'aria totale quindi in questo caso secondo me questo ginepro avendo la parte di sotto tagliata è rimasto idratato ha fatto fotosintesi e quindi da da quanto tempo da molto un mese e un mese dentro la busta ma è da molto che radica oggi lo mettiamo ne mettiamo in vaso e si può dividere così vediamo nello specifico quali devono essere le caratteristiche che deve avere un ramo affinché radichi così facilmente ciao a totto su zonka ciao siamo internazionali qua zonka quindi va bene il sardo ma meglio l'italiano anche un po di francese e tipo disposizione adotti e ombra ombra totale è rimasto qua in veranda ed è che è esposta a nord quindi sole non è mai arrivato questa busta altrimenti non sarebbe andato bene temperature non sono alte allora oggi ho comprato un pochino di di box in plastica maria dolores abbiamo un po di ospiti nuovi elio ciao elio ho comprato dei box di plastica ho già realizzato la mia idea dopo mettiamo in vaso questo hito e gawa ciao michele ciao michele ciao michele ciao michele oh michele oh michele il tutto è offerto gentilmente da battuolato pubblicità no allora allora ecco qua guarda cosa combinato mi mi giro e nel frattempo facciamo vediamo il tutto vediamo il tutto ho comprato di questi contenitori e ho praticamente realizzato la stessa cosa che ho fatto lì ok la stessa cosa solo che dopo osserviamo vedi questi sono tutti i fenici c'è una rettina di sostegno non avevo la tac non avevo la tac dopo collata che metterò dei punti di colla per fissarlo per fissare questa rete ad vedi ad una certa altezza adesso l'ho lasciata così perché si potesse vedere la tecnica vedere come possiamo regolarci nel caso specifico lì la parte bassa del taglio su quel ramo toccava sempre l'acqua qui farò in modo tale che alcune partito alcune tale e toccheranno sempre l'acqua e altre no per verificare se sia una condizione necessaria ripeto questi sono fenici qua poi si chiude si mette il coperchio e si chiude si tiene chiuso ermeticamente così si chiude in maniera ermetica ok spero che sia abbastanza ermetico ma penso di sì se non lo fosse sto guardando adesso comunque deve essere chiuso in modo ermetico va bene questa è la tecnica così tonino allora volevo dire ci sono delle caratteristiche che devono avere questi rami affinché radichi radichino facilmente questo metodo allora ci tengo a dire una cosa è la prima volta che utilizzo questo metodo quindi ho comprato sei contenitori proverò con i pini sì esatto all'ombra assolutamente all'ombra aspetta proverò con i pini proverò con tutto quello che mi viene in mente quindi provate con gli abeti provate con le piante con cui si hanno più difficoltà a solitamente sia più difficoltà a radicare provare provate cioè non aspettate me perché non ho neanche tutto lo spazio per fare tutto quanto è una prova che vorrei facessimo tutti insieme questi contenitori costano 2 ore 19 quindi veramente poco e se va a buon fine insomma ci sono anche caducci foglie sappiamo benissimo che ci sono altre tecniche per far radicare e ci sono molte piante che radicano molto facilmente quindi vi ho fatto vedere nel tempo come i rametti dimenticati per terra nella serra umida radicassero e quindi non c'è che non è che ci sia bisogno no non c'entra non c'entra non ne ascoltate oggi 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 non si ascolta è la prima volta che realizzo questa tecnica la prima perché ho visto che una certa condizione funziona è stato un errore una dimenticanza dimenticato un ramo di toigawa dentro una busta con un po di acqua e lui mi ha regalato una bella radicazione ok quindi addirittura ramo di un centimetro vedi la stessa condizione adesso la ho la sto cercando di realizzarla con una tecnica cioè non è che dobbiamo mettere tutto dentro delle buste si può anche fare una le buste appese ci mette un po di acqua il suo bel rametto dentro e lo mette a radicare questo è un ramone è un bel ramo e quindi io voglio vedere se funzioni anche con altre varietà in questa maniera quindi colito igawa funziona e dopo vediamo il perché ci ci sono un sacco di radici pronte ad uscire adesso le vedremo vedremo da dove sono uscite vedremo anche dove è pronto a far ad emettere radici quindi l'ideale nel caso specifico delle toigawa perché l'abbiamo notato ma queste queste radicchette aeree ci sono anche nei ginepri fenici quindi più avanti proverò anche con dei rami che sono già predisposti proverò quindi prova te provate provate oggi è solo uno spunto affinché tutti provino questa tecnica super economica e questo contenitore costa 2 euro e 19 proviamo con i piccoli diametri coprova anche adele provate in qualsiasi maniera piccoli diametri grossi diametri provate ok adesso vediamo lo sfagno vivo non si mette questa è una domanda buona allora nel caso specifico di sempreverdi non poi defogliare completamente quindi si presume che questa vegetazione faccia fotosintesi quello che fa in genere lo sfagno vivo dentro le buste quindi se mettiamo tale defogliate useremo il lo sfagno ok lo sfagno se invece usiamo proviamo con sempreverdi non usiamo lo sfagno questo in teoria ma proverò anche sempreverdi con presenza di sfagno ovviamente in modo tale da togliermi magari faccio 10 contenitori diversi per provare tutte tutte le possibilità ok starà c'è ciao starà c'è antonio vediamo di comprare questa impianta ad osmosi super mega 60 euro io non sapevo quanto costasse non rimasto a prezzi di cinque anni cinque sei anni fa dove si diceva che un buon impianto ad osmosi costasse 200 euro per quello oggi ho detto 200 euro invece si trovano in piantini ad osmosi secondo me ottimi perché puoi tagliare l'acqua del rubinetto con quelli oppure lottari a in maniera tale che non depuri troppo l'acqua così ti rimangono dei sali e il ph più stabile la bella puntata oggi giovanni antonio piga mica lo sapevo oggi ho compilato il tuo indirizzo per spedire la guida spedita è visto nuoro questo fine settimana iero da era nuoro mannaggia la prossima volta ti avviso prova con una rosa provate 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 oggi è un invito non è guardate che funziona è un invito ognuno che provi così facciamo poi dei post modo tale che tutti si impari alternativa sì certo fabio per racca lo sfagno vivo puoi usare dei potos ma dentro questa vaschettina piccola ci metti foto il potos non ci sta più altro e occhio che il potos poi radica e ruba tutto allora io farei così nel caso specifico di dover mettere lo sfagno ecco allora acqua rette sopra la rette lo sfagno e le talee infilate nello sfagno il cui bordo poi esce nell'acqua ma in quel caso lì radicarebbero nello sfagno presumo che radicarebbero dentro lo sfagno ma non è un problema nel momento in cui vediamo radici bianche che attraversano la rete si può anche intervenire sfilando le piantine ok quindi io farei così acqua rette sfagno e poi infili le piante farei così poi ci potrebbe essere anche un altro sistema mia sua c'era nella busta ciao natale sarei interessato al sistema avventuri allora il sistema è vero lei scritto diverse volte non ho risposto semplicemente perché sarebbe bastato da parte tua fare una piccola ricerca online e sono dei tubi che si collegano alla alla diretta o alla canna diretta la canna principale e questi tubi hanno un tubicino da cui pescano da un secchio praticamente nel secchio e la soluzione concentrata l'acqua passando dal tubo fa sì che questa soluzione concentrata ovviamente è regolabile il passaggio che questa soluzione concentrata venga tirata su aspirata dal passaggio dell'acqua quindi passerebbe un tot di soluzione concentrata ogni tot di litri che passano nella canna principale bisogna fare delle prove bisogna regolare il flusso della soluzione concentrata e andare a verificare in uscita come è la conducibilità per essere sicuri di non avere una concentrazione troppo salina troppo concentrata nella quando tu irrighi però se cerchi tubo venturi per fertirrigazione lo trovi online e ci sono anche degli elementi fatti in plastica che costano pochissimo quindi lo trovi sia molto costoso da mille euro ma anche da 15 euro stefano pedone ciao daniele mannini due tipi con sfagno e senza vedremo ottimo provate oggi l'invito per tutti a provare la rosa radica sto ridendo perché qualcuno dice occhio che poi la sua c'era radica si moltiplica non c'è il rischio che si sa sì c'è questo rischio giovanni sinceramente usato una rete troppo piccola secondo me avrei dovuto usare una rete con maglie più larghe in modo tale che quando sfili poi non rovini le radici queste sono solo prove vediamo quindi provate con reti da un centimetro secondo me è meglio la cui maglia è grande un centimetro molto meglio sicuro prova con le azalee che è gigi gigi prova con le azalee marco fazzone ha usato la rosa in bottiglia si mette all'opera mimo de palo ciao enzino benvenuto quindi oggi radicazione senza terra come far talee senza usare la terra si sperimentazione di gruppo ecco l'ho già detto prima l'ho detto e poi è arrivata la domanda quindi radicazione talee senza terra e non è idroponica perché l'idroponica con la sua c'era capito disgraziati allora mettiamo in il vaso a quei rami e vi faccio vedere perché ha radicato è importante perché ha radicato quel ramo non solo perché c'è l'umidità vediamo un po non vorrei che cosa vediamo così niente una suocera allora questo lo spostiamo è un ramone vediamo perché ha radicato guarda che belle allora ha radicato perché gli toigawa hanno delle pseudo radici già pronte ecco qua si vede dopo il mio dito qui vedi la punta bianca già si vede che ha tirato fuori delle radici cerco di andare più lento possibile mentre ci viene mal di mare guarda le radici vengono fuori laddove la pianta tipo qui tipo vedi queste palline marroni le chiamiamo così quelle sono pseudo radici vedi che anche lì in mezzo il rami ha tirato fuori già una radice guarda qui guarda qui guarda quante sono quindi da questi rigonfiamenti scusate vengono fuori radici chiaro il mio intento questo punto semplicemente vediamo se riesco a non fare danni questa è la tronchese sbagliato sorri questo è meglio oggi è difficile perché voglio che si veda tutto molto bene quindi taglio qua le divido una leggera pulita addirittura radicato alla base di rametti secchi ha prodotto delle radici anche qua in mezzo ci sono delle radici pronte addirittura danni Grazie. Grazie. Un'è fatto, poi qua ho visto, siccome voglio... Su questa parte del ramo ci sono dei punti pronti a radicare, quindi lo separo da quella parte lì e utilizzerò la tecnica che ho usato prima per farlo radicare. Qui voglio semplicemente diminuire il quantitativo di fogliame, queste ovviamente le utilizzerò per riprodurle. Grazie. 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 Ok, allora questo l'abbiamo visto, lo vediamo ulteriormente. Grazie. Allora, vediamo, questa è una semplicissima pianta di Itoigawa, ottenuta da Talea, quindi lo vediamo ancora. Una condizione per far sì che radichi, lo vediamo... Eeeh, scusa. Vediamo in grande, vedi tutte queste piccole protuberanze, vedi? 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 Queste... Ecco, noi otteniamo lo stesso risultato nel momento in cui, ad esempio, tagliamo qui, da queste protuberanze si svilupperanno delle radici. Quindi la stessa cosa, se noi la osserviamo in mezzo alla vegetazione, tipo qua, qui ci sono delle protuberanze, se tagliamo qua sotto, mettiamo a radicare, otterremo delle piante. Questa è la prerogativa... Questa è la prerogativa... Se andiamo nelle parti più giovani, ce ne saranno di meno, però, secondo me, sono già geneticamente predisposte. è chiaro quindi da un semplice allora da una semplice dimenticanza si è riusciti a capire un sacco di cose io proverò questa tecnica anche su piante dove non sono evidenti queste radici queste pseudo radici però io ricordo che sono presenti no non sono gemme sono proprio radici pronte a perché la vicinanza con la terra tra l'altro il fatto che siano così sviluppate queste che abbiamo visto proprio perché sono molto vicine alla zona più umida e quindi iniziano già a lavorare sotto sotto la corteccia nel momento in cui ci sono le condizioni ideali quindi una forte umidità vengono fuori queste radicchette ricordo di aver visto queste protuberanze anche per quanto riguarda i ginepri fenici ma anche i ginepri oxycedrus quindi proverò a fare qualche taleona di queste piante per vedere se con le stesse condizioni emettano radici non sarebbe male stessa tecnica del doppio vaso come aiuto la lo stessa tecnica della del doppio vaso come alessandro gigli sta bene quei due quelle due piantine che ho separato le ho messe dentro uno di questi contenitori senza l'acqua sotto al riparo dal sole e dal vento questa è la condizione con cui li terrò sinché non vedo crescita appena vedo crescita nella vegetazione vi faccio vedere come che cosa è che cosa intendo per crescita andiamo a faccio vedere proprio negli to igawa che abbiamo rivasato insieme qui dietro ho posizionato vedi le puntine gialle quelle crescita nel momento in cui abbiamo questo tipo di crescita allora possiamo metterlo al sole questo questo ito igawa abbiamo rivasato assieme c'era anche l'altro l'altro gridente ha fatto un vento pazzesco le foglie sono perfette c'era anche l'altro anche lui ha lo stesso tipo di crescita vedi quando crescono così si possono mettere al sole chiaro oriana che guarda provato su biancospino ieri con fogliame non va lo sfagno perché le tale fanno la fotosintesi sì ma senza radici la fotosintesi croiana viene lo stesso e se c'è attività fogliare certo che avviene lo stesso la attività fotosintetica è un'attività che avviene con la luce non è necessario altro sistema di fare una margotta con il doppio vaso non ho capito in certi casi non capisco se continua a stare chiuso in lockdown verranno le radici anche a me anche la tuya si starace antonio starace anche la tuya a queste protuberanze ci sono molte cupressace anche cipressi le hanno quindi va bene anche cipressi ciao antonio margarita ora vediamo una cosa e poi chiudiamo gli mi si dice sempre ma tu il mastice sapete benissimo io il mastice non lo utilizzo per la cicatrizzazione la cosa migliore da fare è far andare al massimo la pianta significa che ad esempio qui ci sono delle gemme con dei germogli la pianta qua ha già cicatrizzato vedi in questo punto ha già scusate i movimenti ma sto ingrandendo ha già cicatrizzato vedi è chiaro su tutta la zona di cortecciatura di taglio ci sono gemme nuove gemme cerco di andare piano qui vedi vedi qua tante gemme più su anche lì ne ho visto anche altre anche qua dov'è eccone una lì ovunque 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 ci sono gemme ok quindi queste blu blu mi piaci tu per far callare un taglio importante nell'acero consigli in mastice la cremazione linfatica in fase di ripresa vegetativa ma parli per esperienza o parli per sentito dire perché spesso io leggo delle cose che sono ripetute 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 ma poi che io non ho mai visto adesso o avete visto che io ho portato quel tridente non ho visto nessuna perdita di nessuna lacrimazione linfatica è un po strana questa cosa la puoi avere un pochino all'inizio quando tagli ma poi non ce l'è più il miglior metodo per far cicatrizzare un taglio e farsi che ci sia una forte crescita nel momento in cui c'è una forte crescita avviene la cicatrizzazione il mastice non c'entra nulla nulla anzi nei lentischi che ho lavorato c'era il mastice in dei punti c'era del mastice quello gommoso sotto proprio sotto quei tagli dove è stato messo il mastice il legno era marcio ok invece dove non è stato messo il mastice il legno non era marcio questo perché perché trattiene l'umidità dentro i funghi lavorano per quello dico che non è necessario addirittura è superfluo cipressi leylands sì ma lascia perdere cipressi leylands è stato un mesetto giacomo zippi l'ho detto prima un mesetto mi sembra che a diretta di oggi è stata l'ho avuta all'inizio ma sono le prime esperienze compagni piante impegnative allora devi lasciar perdere tutta quella che è purtroppo nostri a scherzo però bisogna prendere molto con le pinze tutto quello tutte le informazioni che sono state scritte tanti anni fa in ambito bonsai stico perché non sono molto attendibili purtroppo purtroppo quindi sto sto cercando di capirne di più una volta che ho verificato che molte cose non fossero attendibili come rinvaso in primavera forzato solo in primavera e poi qual è questa primavera assolutamente tutto sbagliato e allora da lì poi ho iniziato a prendere la mia strada e capire molte cose erano inventate inventate giusto per poter dare una risposta l'acqua va cambiata non l'ho mai cambiata mai cambiato l'acqua ciao allen ho letto è ho letto il tuo intervento dove scrivevi che pari qualcosa sulle piante ma anche l'italiano mi fa piacere ciao allen java e bocco de pleser a vento quindi grossi tagli è meglio farli a ripresa vegetativa durante l'inverno io li faccio qualsiasi momento se la pianta in tiro cicatrizza subito bravo antonio margarita ha scritto la cosa giusta leggete il suo intervento quanto tempo impiegato a radicare la pianta che era in busta ancora guardate la diretta veronica milano cicatrizzante non serve guarda qua quanti tagli ci sono quanti tagli ci sono ma secondo te io devo mettere un chilo di cicatrizzante lì che poi sporcavo tutto il lavoro col cicatrizzante sporchi solo il lavoro in questi casi non serve allora io il mastice l'utilizzo negli innesti a corona su olivo su olivastro olivo su olivastro utilizzo il mastice gommoso per tappare tutto e far sì che non che far sì che non asciughi però poi la pianta cresce talmente tanto che si ingoia tutto quanto non è il caso di far bonsai luigi minini giacomo zippi ho detto di no non va cambiata l'acqua nella busta franco messina grazie in genere me lo dicono le donne però accetto anche se il complimento arrivo da da un omone franco messina da un ducatista poi si accetta ciao salvo campisi quanti anni di coltivazione prima della lavorazione di quale di questa un anno e mezzo anni quali anni siamo veloci quale anni così così vi saluto ciao